E' talmente bello che è bello anche sentirlo accordare Una bella recensione su questi due ragazzi E' bello che la pubbliciamo Sì sì, volentieri, ne sono onorata di farla In contatto con loro, in modo che vengono anche delle informazioni di carattere generale Sì, più dettagliate, più massicce Gli diamo una bella pagina per le ragazze Comeno, volentieri Grazie, allora, Giorgia Sabatini E' questa mia allieva di terza media ormai Ha vinto il primo premio al concorso note sul mare Che è il concorso che io organizzo ogni anno Il concorso internazionale, musicale internazionale E soprattutto ha vinto il primo assoluto Sempre al concorso note sul mare Ma Cività Vecchia Estate Che è la prima edizione che abbiamo fatto lo scorso anno a Cività Vecchia Ce l'hanno chiesto E quindi abbiamo organizzato una sessione anche a Cività Vecchia E lei è riuscita a prendere il primo premio assoluto Che è una grande soddisfazione Sia per lei che per me È bella La ciarda di Alberto Corci Che è un pezzo un po' virtuosissimo Buono scorsi Grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.